Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio della Pixelmon Allora ragazzi, finalmente ho trovato un boss Adesso non mi ricordo bene il colore rosso che voleva dire Però lo andremo a sfidare Adesso, vabbè, c'è un monferno, glielo tiriamo addosso Non lo prendo mai E' qua, e' qua, perfetto, al 50, ecco Allora, vi volevo dire ragazzi che Monferno ha imparato Feint Che non so che mossa è, però l'ha imparata da poco Quindi poi, magari, ve lo dirò nel prossimo episodio Mi ha sciottato E' scomparso? No Non ci credo Dai, oh Che boss del cacchio No, non c'è qua Non lo vedo Va bene E' se n'è andato Allora, stavo dicendo Monferno ha imparato una nuova mossa Mentre Charmander Questo che sta a fare? Saruba? Oh Ah si Mentre Charmander aveva imparato Ira di Drago Che, se vi ricordate bene Toglie 40 fisso Quindi c'è per Charmander che sta al 18 Dal 17 Scusate Togliere 40 fisso a qualsiasi Pokémon Era tipo la svolta Gliel'ho messa a posto di Di Smokescreen E non me l'ha imparata Ora Sono andato a vedere sul sito della Pixelmon Dove ho scaricato appunto la versione E ho trovato La versione aggiornata Io avevo la 3.3.4 E adesso ho scaricato la 3.3.8 Quindi in teoria Sono uscite anche la 3.3.7 Eppure la 3.3.6 Quindi sono uscite un po' di versioni Quindi speriamo Che almeno con questa nuova versione I Pokémon Imparino le mosse E non come mi è successo Già una volta con Chimchar E adesso anche con Charmander Ehm Ecco Un gloom al 45 In questo episodio Volevo anche fare Le scarpe da corsa Esistono due tipi di scarpe da corsa Esistono Quelli che vanno più veloci Che però vengono Sono fatti Sono craftati con I diamanti E quindi Ce ne ho tre tipi Quindi non è proprio il massimo E se no ci sono quelle Diciamo Normali Che però ti fanno correre lo stesso Che si fanno invece con Il ferro Adesso Sto uccidendo questo gloom Che si è anche caricato la vita E' due volte E' già Vediamo se metteremo un ferro Però vedete Un ferro Già c'è la ruota a fuoco Adesso invece c'è solo bracere Cioè Non vado a nessuna parte Con bracere Noi ci proviamo Ah è morto Monferno E' vero Ah in squadra Ho aggiunto Croconav Porco cane E Croconav Pokemon di tipo acqua Naturalmente Non ha nessuna mostra Di tipo acqua Ha tutte mosse normali Ha Flagello C'ha Ira Però non c'ha mosse Di tipo acqua Gloom Usa Porco cane Sta scagliando Flagello 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 Mi ha tolto qualcosa Mi ha addormentato Vai con il flagello Madonna Mi ha ucciso pure lui Va bene Comunque le scarpe Si facevano con Si fanno con il ferro Dei stivaletti di pelle E delle piume Quindi vediamo Se abbiamo tutti gli strumenti Così lo possiamo fare Ora però Il mio Ecco Si è svegliato Scarmony Porca miseria L'ha rimesso a dormire Per fortuna Che mi sta facendo acido Ma non ha effetto Su Scarmony Quindi stiamo un po' A cavallo Ecco E' quasi morto Lui usa ancora acido Vai L'ultimo attacco No vabbè Mi ha addormentato Se adesso si ricarica Li tiro giù tutti Dai Ok L'abbiamo fatto E abbiamo anche Dei cocoa beans Non so che farci Però abbiamo anche Dei cocoa beans Perfetto Ora Prendiamo queste Come vedete Ho ampliato un po' Tutte le gicoche Qua ho ripiantato Un po' di rosse E altri tipi Adesso andiamo a mettere qua Andiamo a posare anche Coco beans La flint Il golden nugget Che mi ha dato Il meo Allora Mi servono Piume Pelle E ferro Ferro L'abbiamo Più o meno E pelle Mi manca un pezzo Perfetto Quindi devo trovare Dei Miltank Per la pelle Per le piume Credo Anche Firo Dato che sta qua Non ho cura di pokemon Fuck Per la pelle però Dobbiamo trovare Qualche Miltank Qua Ogni tanto gira Qualche Miltank Sì Là c'è Una mia morte Adesso te la faccio vedere Laggiù c'è la mia morte Perché Stavo volando Con scarmoni E ho fatto shift E Dall'alto Sono caduto Capita Oh mio dio Quanto è grosso Quel ponita A che livello sei Perché sei così grosso Sei al 39 C'era anche un piccolo PJ Che forse Forse pure lui Mi poteva dare Qualche Piuma Oh Miltank Perfetto Perfetto Ah eccolo Vabbè Mi ha sfidato Lui Volevo andare subito Dai Miltank Bene Mi ha dato una piuma Me ne serve un'altra Perfetto Perfetto Vai vai Miltank Mi serve Uno di pelle Adesso ragazzi Catturiamo Il pokemon più forte Tra poco eh Andiamo a catturare Proprio lui Adesso Ve lo dico Raw beef E un pezzo di leader Perfetto Staravia No Staravia Vai Charmander Magikorp Sentite come vuole essere catturato L'ha detto Uccidiamo intanto Staravia Da qua Vai 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 Perfetto Non mi ha dato niente Magikarp al 19 Cioè Perfetto Magikarp al 19 Abbiamo una pokeball E 3 o 5 megaball Tipo Quindi vediamo un po' Naturalmente Proveremo con la pokeball All'inizio Vediamo 5 pokeball E megaball Scusate Vediamo un po' Se riusciamo a catturarlo Con la pokeball Vedo anche un allenatore Lì dietro Waiting 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 Oh si Abbiamo catturato Magikarp Perfetto L'allenatore L'allenatore Bracere 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 Bravissimo Charmander al 19 Screeface Non fa un cacchio Via Butterfly Vai con Ancora con Bracere Vediamo se resisti Oh Charmander è morto Perché 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 Azione Vai qua azione Donna che bomber Cicorita Cicorita al 20 Magic leaf Vai Foglia magica Vediamo Un po' Se riesci a impararlo Togliamo crescita Charmander Non ti evolvere Aspetta Chi è che si Pure Cicorita No Ora Vediamo un po' No Andiamo Subito A trovare un altro Pokémon volante Pigiotto E' perfetto Così vediamo anche se C'ho Faglia magica Non lo facciamo volare Non lo facciamo volare Perfetto Ce l'hai? Non ce l'ha Che cacchio Nemmeno con le nuove versioni Si è modificata Sta cosa Mi fa Molto molto Incazzare Ecco E' volato via Via qua Via qua Via qua Che ti prendo Mi devi da Le piume Almeno le Le scarpe Mi posso Fa Non mi danno Le mosse Però almeno le scarpe Mi posso Fa No Se ne va Vabbè Lasciamolo aperte Torniamo a Casa Prendiamo tutta questa roba Buona Buona Tutta roba Buona E Andiamo a prendere Un'altra piuma Adesso Che cacchio Ste mosse Ho provato Ho provato anche A A usare Qualche comando Con la chat Per vedere se Magari Si poteva In qualche modo Dare una mossa Anche tramite La chat Invece no Però io mi ricordo Mi ricordo Che qualche piuma Ce l'ho Secondo me L'ho lasciata qua Perché mi ricordo Che ce l'ho Porco cane Non ce l'ho Vabbè Curiamo i pog Pensavo di si Invece no Non ce l'ho Chi Zorua Cristo Prendi No Prendilo Prendilo Vai Via qua Via qua Via qua Ti devi Sta fermo Zorua Oh si Col cacchio Che lo colpisco Con lui Vai Charmander Charmander Cioè Zorua Regà Regà Zorua Per chi non la sapesse In Pokemon Pokemon Nero E bianco Si E' possibile La Zorua E' un Pokemon Leggendario Insieme Alla Sua Evoluzione Zorua Che avevamo Che avevamo Già incontrato Nei primi Episodi Che però Sinceramente Ero scappato Perché era a livello Elevato E comunque ho visto Un altro pikachu Al 45 Che si sta Buggando a schifo Vai pikachu Buggato Via qua Pikachu Buggato State fermo Vai ho preso Pikachu Buggato Lo voglio Lo voglio Pikachu Buggato Non so Non so Come Gli posso Far male Però Piano piano Gli lo so Fà Vai Con Fagli Lama Oddio Ho fisso Un Pokemon Morì Ecco Secondo me Croc Me lo Shotta Vai Con Flagello Vai Con Flagello Ecco Porco Cane Però è Forte Al 45 Al 45 Questo È Bono Madonna Tra pincio Al 19 Lo stavo A shottare Vai con la Megaball Non si vede Un cacchio Waiting 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 Vedo una Megaball Waiting 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 E vai Abbiamo preso Pikachu Al 45 Best Cattura EU Insieme a Zorua Parco Cane Pokemon Leggendario Abbiamo trovato Un Pokemon Leggendario Ragazzi Siamo Ricchi Siamo Ricchi Siamo Ricchi Però io mi devo fare Le scarpe E quindi Ci sarà un taglio Adesso Finalmente Ragazzi Ho appena ucciso Un PJ Ho dovuto Trascorrere la notte Perché a quanto pare La notte non spawnano Quindi ho dovuto Aspettare Il giorno E quindi adesso Possiamo andare a fare Le nostre Scarpe Allora Andiamo a fare Stivaletti in pelle Poi andiamo a mettere Ferro 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 Piuma Piuma Ecco qui Le Old Running Boots E poi Per farle invece In diamante Dovemmo mettere Queste Il ferro Qui ai lati Altre due Piume qua E due diamanti Ai lati Per fare quelle Diciamo Più veloci Ora Le indossiamo Ok Cambiamo addirittura La visuale Adesso Siamo Molto più veloci Devo dire Molto Molto più veloci Come vedete Ho messo Pikachu In squadra E devo dire Devo Dire Che è una Bomba È davvero Molto forte E Proprio perché Al 45 Non credo Lo farò Evolvere Il Raichu Con la Pietra Tuono Quindi Ce lo teniamo Così per adesso Milton che è appena Stato ucciso Non ha droppato Niente E quindi Ragazzi Abbiamo trovato Un altro PJ Ecco Adesso Mi ha dato pure Un uovo Se è per questo Poi si 5 polli Perché ho ucciso I Starly Che mi droppavano Solo il pollo Invece io penso Mi droppavano Pure le piume Invece no Solo PJ Troppa le piume Vabbè E quindi ragazzi Per questo Episodio È tutto Abbiamo trovato Un Pokémon Leggendario Zorua Poi abbiamo catturato Il Pokémon più forte Magikarp E poi Basta Abbiamo catturato Pikachu Il Pokémon Più epico Vai Il Pokémon più epico Il Pokémon Più forte Del gioco Il Pokémon Leggendario Proprio abbiamo fatto Un Triss Perfetto Quindi ragazzi Per questo episodio È tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare un mi piace Di commentare E di condividere Questo video La pagina Facebook È in descrizione Sito web In descrizione Quindi Ciao a tutti Da Blue Light Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti